Benvenuti. Durante questo video tutorial vi mostrerò come creare un account e-commerce e come effettuare un ordine. Una volta che entriamo nel nostro sito, in alto a destra troveremo l'icona per la registrazione. Cliccando su quest'icona si aprirà questa finestra dove ci verrà chiesto di inserire nome, cognome, indirizzo email e paese di provenienza. Inoltre ci verrà chiesto di inserire anche il nostro ruolo e la nostra area di interesse. Inserendo queste poche informazioni avremmo creato un account base. L'account base però non ci consente di acquistare ma solo di dare un'occhiata al sito web e di creare le liste dei desideri. Ma non sarà possibile acquistare i prodotti. Per farlo è necessario creare l'account d'acquisto, il purchasing account, che ci consentirà di utilizzare l'e-commerce a 360 gradi. E la piattaforma e-commerce ci guida in questo flusso. Infatti dopo la creazione dell'account base si aprirà questa finestra, create purchasing account. Cliccando qui ci verrà chiesto di inserire il numero di partita IVA o codice fiscale, eventuali certificazioni legate alla partita IVA e l'indirizzo di spedizione. Una volta inserite queste informazioni avremmo creato il nostro account d'acquisto. Ci vorranno circa 48-72 ore prima che venga attivato. Una volta attivo sarà possibile iniziare ad acquistare. Inoltre durante questo tutorial simulerò come un user può effettuare un ordine da sottoporre all'amministrazione, che ne gestirà successivamente l'approvazione. È anche possibile che l'user sia esso stesso l'approvatore dell'ordine. Dopo la creazione dell'account si è automaticamente un approvatore e successivamente sarà possibile aggiungere altri utenti, sia approvatori che non. Ora entreremo sul nostro sito e simuleremo un ordine. In alto a destra troveremo l'icona per accedere. E noi lo faremo con queste credenziali che ci sono state fornite appositamente per fare questo tutorial. A questo punto possiamo iniziare a fare acquisti. Cliccando sulla lente di ingrandimento possiamo cercare i prodotti che desideriamo, in questo caso CD19. Questi sono i risultati della nostra ricerca. Sarà possibile selezionare i filtri per rendere la nostra ricerca ancora più specifica. Per esempio selezionare la specie target, in questo caso human, e i fluorocromi desiderati, in questo caso APC e BB515. A questo punto, prima di inserire i prodotti nel carrello, possiamo anche volendo comparare i prodotti per vedere quale è più vicino alle nostre esigenze. Per comparare un prodotto basta cliccare il quadratino di fianco alla scritta Comperra. Si possono comparare fino a quattro prodotti, in questo caso io ne seleziono due. I prodotti che decidiamo di comparare appariranno in questa barra in basso. A questo punto clicchiamo su Comperra. I prodotti che abbiamo selezionato appariranno quindi in questo modo, uno di fianco all'altro con le diverse caratteristiche, tra cui l'isiotipo, la reattività, l'applicazione. Inoltre sarà anche possibile comparare i grafici. A questo punto seleziono uno dei due prodotti da inserire nel carrello. Il prodotto è stato inserito correttamente nel carrello. E ora vi mostro altre tre modalità di inserimento dei prodotti. La prima è la Text Entry ed è abbastanza intuitiva. La seconda modalità consiste nell'inserire qui il numero di catalogo e qui la quantità. Una volta che abbiamo inserito i prodotti che desideriamo, clicchiamo Aggiungere al carrello. La seconda modalità è la Bulk Paste ed è utile quando abbiamo un elenco di codici già pronti con relative quantità che possono essere copiati e incollati tramite questa modalità. In questo modo. Codice diamo uno spazio Quantità. e successivamente possiamo aggiungere al carrello. La terza modalità invece è l'Excel Upload ed è utile se vogliamo condividere le liste tra i diversi collaboratori. Qui scarichiamo il file Excel che successivamente apriremo e compileremo. Entriamo nel secondo sheet e qui inseriamo il codice dei prodotti che vogliamo acquistare. Qui la quantità relativa al codice. Inseriamo un altro prodotto. E qui la quantità. Salviamo il file e lo ricarichiamo. A questo punto possiamo aggiungere al carrello. I prodotti sono stati inseriti correttamente nel carrello. A questo punto possiamo procedere al check out. In questa pagina troviamo un riassunto delle informazioni che abbiamo inserito all'inizio durante la creazione dell'account. Per esempio, i dettagli della spedizione. Sarà possibile confermarli oppure aggiungere volendo un altro indirizzo. Noi confermeremo, salviamo e continua. I dettagli del pagamento. Qui verrà inserito poi il numero d'ordine. In questo caso ne inseriamo uno casuale. L'indirizzo di fatturazione. Ed eventuali altri dettagli. Le istruzioni speciali. Salviamo. A questo punto possiamo rivedere i prodotti che vogliamo acquistare. Rivedere anche le nostre informazioni. È sempre possibile modificarle. E confermiamo l'ordine. L'ordine è stato pre-effettuato. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare con l'account dell'amministrazione che si occuperà di approvare l'ordine. Quindi usciamo da quest'account ed entriamo con l'account dell'approvatore. clicchiamo sul profilo. Come possiamo vedere qui abbiamo una pending request da gestire. clicchiamo. Lo status di quest'ordine è pending, quindi va gestito. Possiamo approvare o declinare l'ordine. Clicco su Approve. Possiamo inserire, se vogliamo, dei commenti. Approvo l'ordine. Lo status è diventato da pending ad Approve. Quest'ordine è stato effettuato correttamente. Vi ricordo l'indirizzo del nostro sito web bdbioscience.com Una volta entrati nel sito è importante che sia selezionata in alto a destra l'account di appartenenza nel nostro caso Italia. Inoltre, tutti i prezzi mostrati in questo tutorial sono prezzi di listino. Una volta creato il Prochasing Account saranno mostrati, oltre ai prezzi di listino anche i prezzi a voi dedicati. Grazie.